Il Belen è il più grande e il più bonito della isla, ora vuoi sapere che lo stanno preparando. Siamo arrivati a Giaiza, Giaiza il presino è molto carino. A Giaiza possiamo vedere un melange tra l'architettura pre-spanica, l'architettura canaria e ovviamente l'architettura spagnola. Adesso a Giaiza proprio fanno il presepe, è il più grande e il più bello dell'isola, lo stanno preparando, adesso lo vedrete. Siamo arrivati a Giaiza, a Giaiza, in Giaiza, you can see a mixture between the pre-spanica, canaria e spedese, l'architettura. Then I will give you a whole information about the traditional architecture of the island and in Giaiza, there is a very big nativity scene, you know? Yes, they make now the nativity scene. E anche a vostra scherda vai saber la iglesia de los Remedios, donde trabajo el cura, don Andrés Lorenzo Curvelo. Qui a vostra sinistra la chiesa de los Remedios, qui lavorava il parroco, don Andrés Lorenzo Curvelo. Here on the left, the Remedios Church, here worked the priest, don Andrés Lorenzo Curvelo. On the right of the road, they make the nativity scene, e ahi a vostra derecha reese, stanno preparando cuore il belè, e laggiù alla vostra destra stanno preparando il presepe. Quello sienta molto a chi non hai sbaglio. I'm sorry, here there are no toilet. Mi dispiace ma qui non ci sono bagno. E' un'altra parte, e' un'altra parte.